Bene, signori e signori buonasera, benvenuti da Conoscere Linux, noi siamo un'associazione non a scopo di lucro, quindi grazie per essere venuti da noi. Io mi chiamo Stefano Inferrati, mi occupo di automazione industriale da poco più di una ventina di anni. Mi è venuta l'idea di contattare gli amici di Finder, che sono venuti qui con noi stasera, perché hanno fatto un bellissimo partnerato con Arduino, che Arduino è, molti di voi lo conoscono, è una bellissima board, un ambiente di sviluppo open source, quindi Arduino sviluppa sia la parte di hardware, la schedina, e anche la parte di software per fare le piccole automazioni casalinghe e non. Finder ha pensato bene di unire la tecnologia open source con la loro tecnologia di progettazione e gestione dell'hardware. Finder nasce come costruttore di relais, adesso qui a mio fianco c'è Marco che vi racconta un po' quello che fa Finder. Hanno industrializzato il prodotto, l'hanno messo insieme in scatolato e buttato sul mercato. A breve usciranno anche delle espansioni per gestire molti più AIO. Direi che il prodotto c'è. Stasera Marco ci fai vedere qualcosa. Vediamo qualcosa, una panoramica. Chi è Finder e cosa fa Finder? Allora grazie innanzitutto, grazie Stefano per averci invitato questa serata con l'associazione Conoscere Linux, grazie che avete partecipato questa sera. Finder, realtà italiana nata nel 1954 con il brevetto alcuni anni prima del primo relais passo passo, quindi il classico relais che trovate a casa per l'accensione o spegnimento delle luci è stato brevettato nel 1949 dal fondatore di Finder, Piero Giordanino. Finder nasce nel 1954, il prossimo anno faremo 70 anni, con la creazione e la produzione dei primi relais industriali. Quindi da metà degli anni 50 ad oggi il catalogo si è ampliato partendo dai relais industriali, passando per i relais da circuito stampato, temporizzatori, ci siamo dedicati anche tutta la parte di protezione e di misura, quindi con gli SPD piuttosto che con i relais di controllo fino a... SPD, scaricatori di sovratensione, scaricatori di sovratensione. Chi non è del mestiere... Allora scaricatori di sovratensione, relais di controllo di varie grandezze elettriche, controllo tensione, controllo corrente, fino ad arrivare ai contatori di energia. Negli ultimi anni abbiamo anche diversificato un po' la produzione, ci siamo dedicati anche alla parte di accessoristica, quindi con tutta la parte di termoregolazione piuttosto che illuminazione da quadro e oggi siamo arrivati con questo nuovo prodotto. Volevo fare ancora... dico ancora due cose di chi è Finder, giusto per inquadrarla anche a livello mondiale, mi viene da dire, perché Finder è un gruppo appunto mondiale con sede a Torino, dove in provincia di Torino il paese si chiama Almese, ha quattro sedi produttive in Europa, una ad Almese dove c'è la stragrande maggioranza della produzione di tutti i prodotti a catalogo, dove c'è gli uffici tecnici, ricerca e sviluppo, amministrazione eccetera. Una seconda sede produttiva che è in provincia di Cuneo, il paese si chiama San Fronte, una terza a Valencia in Spagna dove facciamo tutti i mini relais da circuito stampato e l'ultima in Francia, a Saint-Jean-de-Maurien, subito dopo il tunnel del Frejus. Quindi questa è la struttura produttiva di Finder, non abbiamo niente al di fuori di queste strutture. Dopodiché abbiamo tutta una rete commerciale in tutto il mondo, quindi adesso siamo a 29 filiali commerciali sparsi in tutto il mondo di proprietà Finder, come anche oltre all'Italia dove abbiamo una struttura capillare sempre di proprietà, con filiali di proprietà Finder distribuita su tutto il territorio nazionale. In tutto il gruppo siamo oltre 1400 persone. Esatto, qualche persona che lavora dietro a questo mondo. Io so che voi avete anche una parte diciamo di education che viene chiamata all'interno vostro, cosa fa questa? Assolutamente sì, noi crediamo molto nel discorso scolastico, nel discorso della formazione, perché appunto riteniamo che comunque il futuro è fondamentale partire dalle basi. Quindi è per questo che dedichiamo tanta attenzione anche alla parte scolastica, con momenti di formazione presso gli istituti tecnici, con anche magari supporto a livello di materiale per laboratori, per le prove, per esperimenti, eccetera. Allora facciamo solo vedere un attimo l'oggetto, questo perché così lo facciamo un attimo. Ilia se mi aiuti, se mi dai l'ok che si vede in camera. Ok, questo è l'oggetto che Finder ha industrializzato. Adesso vi spiego cosa sta dietro questo prodotto. Ti lascio a campo libero. Ok, grazie. Grazie Stefano. Ok, come ho accennato, Finder appunto ha questo percorso ormai di quasi 70 anni di esperienza e siamo arrivati alcuni anni fa, ipoteticamente, ad aprire un quadro elettrico, a guardare dove eravamo già presenti all'interno di questo quadro elettrico, quindi tutta la parte di relay, di interfacciamento, di potenza, di accessoristica, ci mancava proprio un po' la parte dedicata alla logica. Quindi ci mancava proprio un po' questo mondo. E si è deciso quindi di provare a entrare, si è deciso quindi di analizzare meglio il settore ed appunto da questa analisi è nato il progetto Finder Opta, che se qualcuno conosce anche Finder un po' di più, Finder identifica tutti i suoi prodotti con un codice alfanumerico di 12 cifre dove le prime due indicano sempre la famiglia, la serie. Quindi anche per Opta c'è un codice identificativo e questo codice inizia con 8A, quindi che identifica la serie appunto dedicata a Opta. Cosa vuole essere Opta per Finder? Vuole essere appunto il primo passo in questo mondo dedicato alla logica programmabile e, o come abbiamo voluto identificare all'interno di Finder, dato proprio tutta questa esperienza nel campo di Relay, vuole essere il nostro primo Relay Smart Programmabile o PLR, Programmable Logic Relay. Quindi un prodotto a logica programmabile è capace di risolvere applicazioni in campo di automazione industriale, in campo IM piuttosto che building automation. Ora, siamo consapevoli di non essere i primi in questo campo, ma mi viene da dire che ad oggi probabilmente siamo gli ultimi. Ciò non toglie che vogliamo comunque cercare di portare innovazione in questo settore, in questo campo, presidiato da nomi di brand che hanno un'esperienza su questo tipologia di prodotto ultradecennale. Quindi cosa si è deciso di fare per evitare di arrivare sul mercato con un prodotto che l'installatore, che il mercato stesso in generale, dicesse, ah, c'è anche Finder, ah, c'è anche Finder, ah, l'ennesima copia, l'ennesimo clone di altri prodotti, ah, vabbè, c'è anche Finder, ok. Non volevamo arrivare lì, questo è l'ultima cosa che vogliamo. Vogliamo portare un prodotto che metta innovazione. Per fare questo cosa si è deciso di fare? Si è deciso di fare un esame di coscienza e cos'è venuto fuori, cos'è che sappiamo fare noi come Finder? Noi siamo bravi a fare la parte di hardware, siamo bravi a fare prodotti robusti, resistenti, capaci di lavorare in ambienti industriali, ambienti che non sono propriamente semplici come gestione e tutto. Quindi siamo capaci di fare prodotti robusti per questi ambienti, per queste applicazioni. Non è tanto nel nostro DNA la parte di software, la parte di sviluppo, di programmazione, eccetera. Quindi cosa si è deciso di fare? Analizzando anche proprio il mercato, analizzando questa filosofia, questa voglia di open source che si trova ormai ovunque e guardandoci intorno abbiamo visto che a fianco noi, praticamente noi siamo a 30 chilometri da Torino direzione Francia, a 35-40 chilometri da Torino direzione Val d'Aosta, c'era un'azienda che c'era, c'è un'azienda che invece ha fatto del suo core business proprio tutta la filosofia open source. e questa azienda è appunto Arduino. Quindi si è deciso di collaborare insieme ad Arduino per creare un prodotto che appunto si potesse dire che è unico sul mercato. Arduino sicuramente lo conoscete, è attualmente il brand italiano più conosciuto nel mondo a livello digital and tech, con una comunità di oltre 30 milioni di membri attivi e soprattutto anche loro come noi credono molto nella parte education, nella parte di formazione scolastica. Tant'è che Arduino è incluso nei programmi scolastici a livello globale, quindi tutto il mondo, è incluso nei programmi scolastici degli istituti tecnici. Quindi magari un ragazzino neodiplomato non è più, passato in termine, capace di saldare o su un circuito stampato, resistenza, condizionatore, condensatore, eccetera, ma sa cos'è Arduino, sa metterci le mani, sa programmare, sa come si muove questo mondo. Quindi questo è un altro punto che è molto interessante per noi. Arduino attualmente è divisa in tre business unit, quella con cui abbiamo collaborato noi per la realizzazione di questo prodotto, di Opta, è la parte di Arduino Pro, quindi la business unit nata proprio per le applicazioni più industriali, più professionali. Dicevo prima, Finder mette dalla sua quello che sa fare meglio Finder, quindi tutta la parte di hardware e di costruzione del prodotto, Arduino mette tutta la parte dedicata al software e alla programmazione, quindi partendo dagli ambienti di sviluppo, con un nuovo servizio cloud per l'interfacciamento tramite, appunto l'interfacciamento del prodotto, utilizzando delle dashboard già preconfigurate, pre-realizzate per facilitare anche l'esperienza d'uso con un utilizzatore finale e poi tutta la parte di conoscenze, di community che è forte proprio del DNA Arduino, quindi utile nella creazione di contenuti, nella creazione delle librerie, fonte di ispirazione, di supporto a tutti quelli che vogliono entrare in questo mondo. Il risultato di questa collaborazione è appunto Opta, attualmente una gamma composta da tre prodotti, una versione di ingresso chiamata Light, una versione intermedia Plus, una versione di punta Advanced, caratteristiche tecniche elettriche comuni per tutti e tre, quindi alimentazione, numero di input, numero di output, tipologia eccetera, comune per tutti e tre, quello che li differenzia è le connettività. Infatti si parte dalla versione Light, la versione di ingresso, dove troviamo la porta USB di tipo C che può essere utilizzata sia per la programmazione che per il data logging, che per l'alimentazione durante la programmazione. Infatti, per programmare Opta non c'è bisogno di portare un'alimentazione separata, ma l'alimentazione la prendo direttamente dal cavo USB collegato al mio PC. E poi una porta RJ45 che mi permette di comunicare col mondo esterno tramite Ethernet TCPIP piuttosto che Modbus TCPIP. Questo è già tutto presente sulla versione Light. La versione Intermedia Plus prende tutte queste caratteristiche e va ad aggiungere i terminali per la porta RS485, quindi per una porta seriale, dove noi spingiamo sull'utilizzo del Modbus perché abbiamo già anche altri prodotti che usano questo protocollo, però di fatto è una porta seriale aperta, una porta RS485. Advanced, stesse caratteristiche in eredità dalla Light più la Plus, in più va ad aggiungere ancora, oltre alla porta RS485, anche un modulo integrato Wi-Fi più Bluetooth Low Energy. Quindi queste sono un po' le caratteristiche complessive del prodotto con, come dicevo prima, caratteristiche tecniche elettriche uguali per tutte, un'alimentazione che va da 12 a 24 Volt DC, 8 ingressi dove tutti e 8 possono lavorare sia in modo digitale che analogico 0,10 Volt, tutti e 8 senza vincoli di posizione, di numeri, posso usare i pari per il digitale, i disperi per l'analogico, tutti analogici, tutti digitali, come voglio. 4 uscite a relai con contatto da 10 A, le caratteristiche che abbiamo visto prima, porta USB, porta RJ, i terminali per l'RS485 e il modulo interno Wi-Fi, Bluetooth sulla versione Advanced, due pulsanti, uno di reset per fare un reset hardware della scheda, azionabile con un mini utensile e uno user programmabile dall'utente come desidera, quindi può essere un ulteriore ingresso, può essere usato come un pulsante di start, un pulsante di reset, un run stop, quello come voglio. montaggio a barradin, larghezza 70 mm, in più, Finder è conosciuta anche nel mondo per il suo livello di qualità e di certificazioni, quindi non potevamo proporre sul mercato un prodotto di questo tipo senza le dovute certificazioni, quindi è per questo che il prodotto non era ancora stato presentato, che avevamo già avuto tutte le omologazioni per la parte, per quanto riguarda l'UL e NEC, adesso è già arrivato anche l'FCC per la parte di comunicazione wireless, quindi ecco, questi sono i primi passi che poi anche qui andremo a espandere anche la parte di omologazione. Come dicevo prima, consapevoli di non essere i primi sul mercato, consapevoli di andare in un mercato già pesantemente presidiato da grandi nomi, da grandi brand. Cosa abbiamo fatto per differenziarlo da tutta questa concorrenza? Abbiamo deciso di puntare su delle caratteristiche tecniche fuori dal comune. La prima di queste riguarda sicuramente la parte del processore, infatti a bordo di Opta è montato un processore dual core Cortex di ST con un M7 più un M4, quindi con 480 MHz di velocità sull'M7 260 MHz di velocità sull'M4 tradotto cosa vuol dire? Grande velocità di calcolo, grande capacità di eseguire più operazioni, più operazioni in parallelo in tempo reale, capace di gestire tutti i calcoli per la manutenzione predittiva e preventiva, potrei anche andare a dividere il a separare i due processori quindi a usarne uno solo per determinate situazioni, per determinate applicazioni, la butto lì, una solo per leggere i sensori a bordo macchina dello stato della macchina di velocità, pressione, cicli, eccetera, eccetera, e usare il secondo processore per interfacciare questi risultati con il mondo esterno, quindi via Bluetooth, via Modbus, via Wi-Fi, eccetera, senza andare ad appesantire il tempo ciclo del programma della macchina. E poi, non ultimo, gli aggiornamenti, questo processore permette anche gli aggiornamenti over the air, quindi se ho un Opta collegato e raggiungibile da remoto, posso andare anche a intervenire con gli aggiornamenti over the air. studiato per la cyber security, anche in questo caso è un argomento molto molto caldo in questo periodo, anche per tutto il discorso dell'industria 4.0 eccetera, Opta è dotato di un potente crypto chip montato direttamente sulla scheda centrale a stretto contatto del processore per andare a aumentare, a garantire il livello ancora più elevato di sicurezza nella connettività di Opta. L'industria 4.0 chiede una protezione all'ingresso del quadro connesso e si limita a quello. Con Opta vado ad aggiungere un livello di protezione direttamente sull'intelligenza del quadro. E poi tutta, l'abbiamo già visto un po' tra le righe, quindi sempre di diversificazione dagli altri prodotti tutti i protocolli di comunicazione direttamente già nel prodotto senza, naturalmente a seconda delle versioni e a seconda dei tipi, però senza dover andare ad aggiungere dei moduli di espansione secondare, quindi io ho tutti questi protocolli già direttamente sulla CPU. Un altro punto che dove abbiamo prestato particolarmente attenzione è sui linguaggi di programmazione. Perché? Sappiamo, chi conosce Arduino, sappiamo che l'ambiente di sviluppo, il linguaggio principale di Arduino è basato, è l'Arduino IDE, che è un linguaggio molto potente basato sul C++, quindi un linguaggio che mi permette basso livello, che mi permette di fare molteplici cose, di sfruttare a pieno le potenzialità di Opta. Siamo consapevoli però anche che in un ambiente prettamente industriale o in un ambiente che, dove ci sono utilizzatori che hanno 5, 10, 15, 20 anni di esperienza nel campo industriale utilizzano altre tipologie di linguaggi che non sono il linguaggio C più dedicato, più indirizzato verso un'utenza con più background diciamo informatico. Tutte queste persone qua non volevamo comunque, non volevamo toglierci la fetta di mercato di queste persone che sono anche, lasciatevi dire, lo zoccolo duro della parte industriale che sono i programmatori con appunto esperienza in questo ambiente. Per raccogliere, per raggiungere anche questi utilizzatori si è decisa appunto di permettere con Opta, con tutti i prodotti, di permettere la scelta di utilizzare i due strade parallele per la programmazione. Quindi chi conosce IDE di Arduino può programmare tramite Arduino IDE può programmare come già conosce Opta. Chi non è tanto avvezzo a questa tipologia di programmazione ma conosce bene i linguaggi dello standard IEC 61-131 nessun problema perché Opta lo stesso codice, lo stesso prodotto può essere programmato anche con queste tipologie di linguaggio. Quali sono queste tipologie di linguaggio sono i cinque linguaggi che rientrano in questo standard che sono appunto gli L, LST, LD, FBD ed SFC. Tra questi probabilmente quelli più conosciuti, più utilizzati sono il ladder piuttosto che l'FBD. Perché? Perché sono linguaggi a fuoco con la tipologia di prodotto dove venivano utilizzati. Quindi io avevo il mio prodotto con la logica programmabile che mi leggeva alcune situazioni e generava determinati eventi. Io prendevo il mio schema elettrico con contatti temporizzatori eccetera che uniti facevano qualcosa e generavano eventi sulla bobina. Quindi ecco che il ladder va benissimo e a fuoco per questa tipologia di prodotto. con Opta poi qua viene fuori tutta la mia ignoranza su queste tipologie di linguaggi però con Opta dove ho già anche la possibilità di interfacciarmi via bluetooth di creare un'app e gestire tramite app il prodotto piuttosto che l'interfacciamento via modbus eccetera eccetera questi linguaggi qua sono un po' strettini sono un po' limitanti e soprattutto c'è anche un'altra possiamo dire in questa sede penso che possiamo anche dirlo questi linguaggi sono per poterli utilizzare deve essere pagata una licenza quindi sono linguaggi che devono essere licenziati quindi bisogna pagare per poterli utilizzare cosa ha deciso di fare Finder per Opta e per essere ancora anche qua per dare un'offerta ancora più appetibile sul mercato in questo mercato ha deciso di dotare già di fabbrica tutti gli Opta tutte le versioni Light Plus Advanced escono praticamente sul mercato già licenziati praticamente Finder si è accollata la spesa di queste di queste licenze di queste di queste licenze per l'utilizzo con questi con questi linguaggi e l'utente finale l'utilizzatore finale non avrà nessun'altra spesa nessuna spesa aggiuntiva nessuna differenza di costo dal prodotto niente l'unica cosa che dovrà fare sarà quella di andarsi a scaricare un nuovo ambiente di sviluppo che si chiama Arduino PLC IDE ok quindi qual è lo scenario che si trova di fronte l'utente che vuole programmare con Opta due scenari due scenari non vincolanti uno rispetto all'altro libero utilizzo oggi decido di programmare in IDE va bene domani cambio idea e voglio programmare in ladder nessunissimo problema non sono vincolato non sono tatuato marchiato a fuoco che devo andare avanti sempre con quel linguaggio quindi posso scegliere come voglio le due le due possibilità una scaricando e installando Arduino IDE l'altra scaricando e installando Arduino PLC IDE che mi mette a disposizione ripeto senza nessun ulteriore costo tutto l'ambiente per la gestione dei linguaggi IEC quindi i linguaggi che abbiamo visto prima questa è una panoramica lo screenshot del del nuovo ambiente PLC IDE con una una parte home dove ho il 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 dispositivo collegato quindi riconosciuto in base alle alle interfacce o una parte di mappatura degli input e output probabilmente se qualcuno ha dimestichezza con ambienti di sviluppo basati sul codesis piuttosto che basati su altri ambienti trova anche un po' di familiarità è stato questo ambiente è stato costruito proprio per dare familiarità a chi già usa altri altri ambienti di programmazione quindi ho una parte appunto dedicata alla mappatura degli input output alla faccio vedere così che è un pochino più grossa alla mappatura alla caratterizzazione delle caratteristiche del modbus piuttosto che della porta ethernet o qua vado ad assegnare le variabili sugli input piuttosto che sugli output una volta configurato questo primo livello vado nella mia programmazione scelgo la tipologia di programmazione che voglio utilizzare scelgo il ladder piuttosto che l'fbd e programmo in questa tipologia di ambiente con questa tipologia di linguaggio una cosa un plus anche di questo ambiente è che io posso andare a importare già tutta già tutti i programmi realizzati nel corso degli anni quindi se io ho dei programmi ladder già già scritti già già fatti nella mia sul mio pc posso tranquillamente andarli a importare in questo nuovo ambiente l'accortezza è cioè l'accortezza non è un copia incolla spudorato devo andarlo ad adattare che non è il termine giusto ma devo andare a rimappare gli ingressi e le uscite ok quindi c'è un minimo di aggiustamento ma è un aggiustamento appunto legato agli input e gli output il programma è fatto ok devo solo andare a ribattezzare gli input e gli output quindi posso importare programmi già eseguiti posso mixare eventualmente più programmi di linguaggi diversi quindi ho una parte ladder o il mio socio che è andato in pensione l'anno prima o il mio collega che è andato a fare un altro lavoro che lui programmava solo in FBD nessun problema non devo andare a modificare il suo programma fatto in FBD lo importo come FBD in PLC scrivo la mia parte di integrazione o cosa in ladder anche lì dovrò andare a nominare ingressi e uscite ma i due parti di linguaggio possono cooperare nello stesso progetto quindi questo è anche un plus e in più questo mix può avvenire anche torno indietro di un paio di slide con gli sketch di arduino quindi con la parte di programmazione in C++ che ci permette magari di togliere le castagne dal fuoco in qualche in qualche occasione per esempio io il mio programma scritto vent'anni fa in ladder per la gestione di elettrovalvole voglio fare in modo che le uscite siano pilotabili da un'app dal mio smartphone piuttosto che gestite via cloud da da remoto da qualche ambiente appunto sul cloud non tocco niente del mio programma ladder che va bene così l'unica cosa che faccio è andare a condividere le variabili le uscite quello che mi interessa di questo programma ladder e importarle nella parte di sketch quindi io andrò a scrivere le mie righe di codice poi magari vedremo se abbiamo tempo le mie poche righe di codice per un interfacciamento con un cloud utilizzando le variabili generate dal programma ladder quindi il mio programma ladder non lo tocco integro con C++ e ho la mia il mio programma della gestione dell'elettrovalvole scritto nel 2001 reso smart se vogliamo usare questo questo termine l'altro ambiente invece ide ide normale è linguaggio appunto basato sul sul C++ quindi con tutte le istruzioni a livello testuale sia in utilizzabile in locale che anche attraverso un un web editor online uno dei servizi che mette a disposizione Arduino è un servizio cloud con tanti con tanti piani anche gratuiti alcuni anche gratuiti che mi permettono di integrare interfacciare Opta con appunto con il cloud di Arduino cloud con già dei alcuni servizi già appunto pre-realizzati con dashboard già pre-realizzati quindi semplificato per determinate esigenze determinati utenti nulla toglie questo è un servizio nulla toglie che se io utilizzatore ho un cloud proprietario l'azienda che che faccia manutenzione ha i suoi server al suo cloud voglio usare un cloud di terze parti perché mi trovo bene con quello nulla vieta di utilizzare quello che conosco quello che voglio quello che già ho questo è un servizio aggiuntivo che viene messo a disposizione tutte queste cose tutti questi software tutte queste anche guide e tutorial si possono trovare su una landing page di Finder che si chiama opta.findernet.com dove appunto sono raccolte tutte le le informazioni di di Opta tutte le guide e settimanalmente l'obiettivo sarà arrivare a generare settimanalmente dei tutorial su delle possibili applicazioni per dare anche qua lo spunto o l'ispirazione sull'utilizzo di qualche di qualche possibile in qualche possibile applicazione quindi se avete possibilità monitorate questo questa pagina dove oltre appunto scaricarvi gli software che si diceva prima c'è la parte dedicata appunto sia a IDE che a PLC IDE ci sono appunto anche gli aggiornamenti su guide e tutorial una cosa che magari una domanda che precedo una possibile domanda espansioni Opta sarà espandibile è espandibile è già è già praticamente c'è la possibilità è già nato con la possibilità del di di aggiungere espansioni stiamo lavorando su queste espansioni stiamo lavorando su espansioni non per andare ad aumentare il numero di input e di output non solo a relais anche altre tipologie di output uscite veloci altre tipologie di input e output quindi anche non solo il digitale piuttosto che l'analogico 0-10 volt ma anche il 420 mA anche il PWM sia sugli ingressi che sugli uscite eccetera sono già in fase di lavorazione nel corso dell'anno le presenteremo e saranno appunto disponibili sul mercato e saranno collegabili saranno modulari sempre appunto con questa tipologia di installazione e saranno collegabili a livello appunto modulare una con l'altra direttamente gestite dalla CPU da Opta dall'intelligenza di Opta giusto per fare una panoramica velocissima qua penso che sapete più voi di me partendo dal dalla versione light di Opta dove ho la mia alimentazione a 12-24 volt posso andare a gestire sugli ingressi fine corsa piuttosto che proximity piuttosto che sonde magari 0-10 volt sonde di temperatura di pressione di velocità eccetera 0-10 volt che vanno a gestire delle uscite motori teleruttori segnalazioni elettrovalvoli eccetera con un contatto appunto fino a 10 ampere cosa mi mette poi in più la versione light posso utilizzando la porta RJ45 e eventualmente andarmi a collegare a un router dare un indirizzo IP al dispositivo e poi interfacciarlo al mondo esterno appunto con servizi cloud con servizio cloud di internet o interfacciarlo appunto sulla rete su una rete internet questo versione light non mi interessa andare online posso usare la porta RJ45 per andare a connettere dei dispositivi Modbus via TCP IP versione plus stesse cose della light uso l'ethernet per andare online uso l'RS485 per andare a collegare dispositivi dotati di questo protocollo di comunicazione come ad esempio poi lo vediamo anche qua che l'ho portato dietro i nuovi contatori di energia 7M i nuovi analizzatori di rete 6M o perché no tutto l'universo conosciuto di prodotti che utilizzano il Modbus via RS485 per la comunicazione versione advanced ho tutto quindi ho la versione light che è collegata come l'ho collegata l'RS485 per i dispositivi RS485 la porta ethernet libera per eventuali dispositivi Modbus TCP IP posso usare la connessione wireless per connettermi andare online piuttosto che usare il bluetooth per connettermi a dispositivi smart quindi smartphone tablet pc perché no interfacciarmi con reti mesh all'interno di un quadro elettrico sempre in bluetooth quindi con dispositivi che usano il bluetooth come come protocollo di comunicazione e appunto e l'utilizzo o collegamento online voglio dire che via bluetooth posso usare anche smartphone o tablet come monitor di sistema di interfaccia HMI per esempio quindi ho tutta questa libertà di utilizzo di fatto Opta è un prodotto concepito per essere molto potente quindi che mi permette di risolvere tante tante applicazioni l'unico limite che mi viene da dire proprio un po' del prodotto oltre riconosciuto a eventuali aumenti un ingressi maggior numero di ingressi o di uscite date poi dalle espansioni l'unico limite è proprio un po' un po' la fantasia di chi va a utilizzarlo lui permette di fare tante cose queste cose qua sono appunto è nel è nel bagaglio culturale proprietà intellettuale del dell'utilizzatore ok con questo avrei finito la la parte di presentazione del prodotto quindi non lo so se ci sono ci sono domande Marco io ti sono online sì ok ti chiedevo posso ovviamente far dialogare più octa insieme sia in seriale che in su base a tcp assolutamente sì assolutamente sì posso mettere gli oggetti dislocati posso lavorare come master e slave sia con con il discorso di modbus tcp ip sia in un discorso di collegamento ethernet tcp ip sia con porta rs485 quindi con il concetto del master più slave posso gestire n un opta ed n altri dispositivi collegati ok ok quindi finché finché non abbiamo le espansioni che sono ci si può declamate ci si può esatto organizzare in questo modo ci sono dei led su opta ci sono dei led su opta ci sono ci sono 6-8 led di cui due sono dedicate alla rete LAN quindi di trasmissione ricezione questi qua non sono impostabili non sono modificabili questi sono legati proprio alla trasmissione sulla porta RJ45 tutti gli altri sono sono invece impostabili dall'utente abbiamo 4 led di stato che ipoteticamente sono scollegati dalle uscite sono scollegati da ogni cosa quindi io posso usarli come meglio credo può tornarmi utile magari indicare lo stato di uscita 1 piuttosto che l'uscita 2 eccetera posso anche benissimo gestirli o vederli come indicazione di processo quindi quel processo è sul led 1 quel secondo processo è sul secondo led eccetera eccetera gli altri e questi qua sono tutti verdi quelli in alto invece sia del reset che dello user anche questi sono svincolati quindi posso gestirmeli come voglia questi sono RGB quindi posso anche dargli un'altra tipologia di colore ok dove compro io sono un utilizzatore finale non sono un'azienda che magari ha accesso a canali diversi dove compro il prodotto Opta di Finder qualsiasi distributore di materiale elettrico quindi qualsiasi negozio posso trovarlo anche online puoi trovarlo anche online puoi trovarlo anche online questo qua è un progetto condiviso da Arduino e Finder quindi trovate lo stesso prodotto come Finder o come Arduino però appunto sul canale che più preferite lo trovate lo trovate ovunque decidete solo voi dove dove vi è più comodo acquistarlo prima ci facevi vedere la parte di interfacciamento al cloud di Arduino e interfacciamento con alcuni oggetti diciamo in seriale parlavamo di analizzatori di rete sì assolutamente guarda io qua ho un ho un piccolo esempio fatto con con Arduino con 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 di Arduino è un programma veramente semplice sono poche righe di di programma non è un programma che vuole essere troppo complicato è un programma giusto per utilizzare e e capire come poter utilizzare come poter gestire un prodotto che in questo caso è un nostro contatore di energia serie 7m lo inquadriamo così almeno capisco da casa cosa cosa stiamo no no ma vengo lì con la telecamera guarda è lì ad all'energia se mi dai l'ok ci siamo in camera per me che è il bagaglio ok è meglio bene ok poselo pure posso io la raccontiamo mentre questo qua è appunto è un bagaglio costruito costruito in ufficio giusto per analizzare il l'utilizzo un opta un alimentatore da 2,30 24 24 volt una presa di di tensione una presa elettrica in uscita un un'interfaccia tra tra opta e la presa un'interfaccia di come contatore di energia appunto 7m cosa fa questo questo contatore di energia legge le grandezze elettriche che passano da dal generatore diciamo dalla quindi dalla presa generale di casa verso l'utenza finale legge cosa legge la tensione legge la corrente legge la potenza sia attiva che reattiva questo prodotto è disponibile sia in monofase che in trifase tutto qua adesso qua ce ne sono due giusto perché sono due tipologie di installazione di conteggio diverso uno o meglio contano nello stesso modo trasmettono il risultato il conteggio in due modi diversi uno via modbus appunto con rs485 l'altro con un'uscita open collector quindi a conta impulsi l'uscita la versione con l'uscita modbus è quella tra le due è la più completa tramite modbus io posso andare a interrogare il dispositivo utilizzando tutta una serie di indirizzi che mi restituiscono determinati valori questi determinati valori sono appunto la tensione la corrente la frequenza la potenza la potenza attiva reattiva il numero le ore di esercizio eccetera eccetera tutti questi il monitor continua a vedersi giusto? adesso lo mettiamo solo coperto tutte queste grandezze sono raggruppate sono segnalate all'interno del manuale di istruzioni del prodotto del 7m quindi del contatore di energia e qui trovo si vede già si vede oltre all'indirizzo del prodotto che va a identificare il prodotto si vedono appunto tutti i vari valori di misura utilizzato appunto la frequenza il runtime la tensione questi prodotti sono anche certificati mid quindi utilizzabili impugnabili a livello fiscale quindi anche utilizzabili in applicazioni non so condominali piuttosto che di lettura fiscale dell'energia elettrica sono utilizzabili anche in queste applicazioni quindi io trovo la mia la mia misura che voglio andare a leggere la mia misura che utilizzerò per interrogare il 7m ogni misura ogni valore ha un suo indirizzo questo indirizzo cosa bisogna fare praticamente togliendo il 3 iniziale lì sono valori espressi in decimale sono numeri decimale bisogna andare a trasformare in esa decimale questo valore e andarlo a dichiarare all'interno del dello sketch questa è una parte di sketch presa veramente qua open source all'ennesima potenza è una parte di sketch non di mia non di mia realizzazione sono sono sincero ho giusto cambiato alcune cose la base è stata presa dalle risorse online di proprietà intellettuale mia c'è pochissimo cosa fa questo 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 sketch praticamente va a leggere nei vari indirizzi indicati piuttosto che la tensione piuttosto che la potenza la corrente questa è la parte di indirizzo tradotto in esadecimale quindi io prendo la mia parte in decimale lo traduco con un qualsiasi convertitore decimale esadecimale mi viene fuori il risultato vado a leggere con la funzione read data che poi vado a esplodere qua sotto vado a leggere quel valore e vado e vado a scriverlo qua siete più sicuramente più sul pezzo voi di me per fare questo cosa ho dovuto fare ho dovuto importare delle librerie già realizzate da da Arduino già disponibili per l'ecosistema Arduino cioè il bello di Opta è che tutta la letteratura che trovo online dedicata ad Arduino posso utilizzarla per questo prodotto quindi veramente tanto lavoro è già stato è già stato fatto quindi io vado a importare le due librerie una del Modbus e una dell'RS485 perché perché utilizzo con il 7M utilizzo la porta RS485 e il protocollo Modbus avessi utilizzato un altro protocollo andavo a a includere la libreria di quel protocollo avessi utilizzato un'altra porta andavo a includere la libreria di quella di quell'altra porta una volta dedicato il Baudret una volta indicato il Baudret del prodotto collegato appunto poi vado a decidere vado a indicare i le grandezze che mi interessa che mi interessa leggere qua avevo aggiunto poi ancora l'energia piuttosto che la frequenza la potenza apparente eccetera quindi gestibili vado a leggerli e vado in loop ogni 5 secondi quindi ogni 5 secondi vado a fare una lettura e la vedo ad esempio qua sul sul mio monitor seriale appunto leggo leggo i watt leggo i volt leggo gli ampere watt volt ampere ogni 3 secondi ogni ogni 5 secondi se io adesso andassi a collegare per esempio un carico vado a collegare il mio pc che tanto è un po' scarico la collego alla presa qua vediamo se salta tutto ecco che vado ad avere la variazione già di lettura quindi con la tensione comunque sempre costante la tensione non è cambiata va a cambiare la corrente assorbimento siamo a 0.12 siamo 120 milliampere e 15.2 15.2 watt ora io questo questo sketch ce l'ho fatto funziona a livello locale per per il mio per il mio per il mio prodotto qual è il servizio che si diceva prima il servizio che mette a disposizione arduino il servizio cloud il servizio cloud di arduino allora è raggiungibile è raggiungibile e raggiungibile online andando a a creare il proprio il proprio account io qua ho un ho un piano arduino mette a disposizione una serie di di piani partendo da un gratuito che è morto tutto ecco ci siamo di nuovo siamo di nuovo online un piano gratuito appunto free che permette di collegare due things due things sarebbero due dispositivi che si vanno a collegare al cloud nel nostro caso potrebbero essere due due opta tutta una serie di di dati e di di variabili in questo caso sono cinque variabili per ogni things quindi io posso per ogni opta andare a leggere cinque cinque grandezze cinque interagire in cinque modi in base poi agli altri piani ce ne sono ce ne sono svariati diverse possibilità illimitate eccetera io ho fatto veramente la versione la versione free la versione base ho creato il ho collegato il mio opa se adesso non ho da compilare il il prodotto nel momento che collego il dispositivo al cloud posso andare a creare le variabili da leggere in questo in questo con questo prodotto in questo caso io sono andato a leggere tre grandezze la corrente piuttosto che la potenza piuttosto che la tensione adesso magari ne ne cancello una che è così ecco add io posso andare a decidere la grandezza che voglio andare a leggere ad esempio il potenza l'ho già messo mettiamo la frequenza mi mette già a disposizione una serie di di grandezze già pre-realizzate in questo caso la frequenza non è sotto energia ma è sotto time posso decidere se voglio questa variabile solo lettura piuttosto che lettura scrittura posso decidere se vederla alla variazione del valore piuttosto che leggerla a cadenze periodiche l'aggiungo dopodiché posso andarmi a creare la posso andarmi a creare la dashboard di riferimento per leggere per leggere queste per leggere queste variabili ora qua ero già un esempio che avevo già fatto io nel momento che io decido creo queste variabili in automatico mi si genera lo sketch mi si genera lo sketch in automatico per andare a leggere quelle variabili che io ho deciso di creare questa qua è l'ultima che è stata fatta cloud frequency frequenza mi genera lo sketch io quindi cosa devo andare a fare io devo solo andare a popolare questo sketch pre-realizzato con il programma che serve a me col programma che ho realizzato io per la mia esigenza in questo caso era tipo il programma che abbiamo visto prima vado a importarlo qua dentro e di fatto il gioco è finito una volta che ho definito le variabili mi si è generato lo sketch ho caricato la parte di sketch che serve a me per per la gestione del programma ho definito la rete con cui Opta si collega può andare può andare online il mio giochino è finito è completato e io poi appunto posso avere o collegandomi al o collegandomi al al cloud da computer oppure scaricando scaricando l'app arduino ai iot iot remoto scusate si vede io ho la stessa dashboard sia sul pc che sul che sul che sullo smartphone e vado a visualizzare quello che Opta in questo momento sta sta leggendo collegato al collegato al al 7m ok e possiamo interagire e possiamo possiamo interagire possiamo in questo caso qua avevo messo delle varie poi possiamo farlo sarà un pochino lunga la compilazione perché devo passare tramite tramite l'hotspot del del cellulare possiamo farlo se ho messo un anche un un pulsante di interazione ho messo i le variabili in lettura del dello stato del di tensione e corrente vado a visualizzare vado a intervenire accendo spengo come 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 preferisco come come posso fare ok quindi fondamentalmente abbiamo un arduino molto molto più potente con un sacco di connessioni verso l'esterno esatto si allora vediamo un po' adesso ho cambiato un po' di cosa facciamo una verifica questo qua è questo qua è la parte di di sketch generato con quelle variabili che abbiamo visto prima adesso l'avevo tolto da 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 questo opta per vedere un po' di un po' di altre potenzialità questo qua è questo qua è opta questo qua è un prodotto costruito da finder realizzato da finder fisicamente come come prodotto in finder ad almese quindi dove c'è la sede finder in provincia di torino è un prodotto costruito lì costruito da noi interamente made in italy con la collaborazione a livello di design di arduino però appunto è un prodotto non è ecco una cosa che ci teniamo sempre a sottolineare non è una scheda arduino quindi l'ardduino 1 l'ardduino mega l'ardduino vatte la pesca i n nomi che adesso lapsus però ci sono n nomi di schede di arduino non sono queste queste schede qua all'interno di un case generico in questo caso all'interno di un case finder ok non è questo non è questo il progetto non è questo il prodotto il prodotto utilizza una scheda realizzata da finder progettata a quattro mani con arduino ma fatta secondo le 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 linee secondo gli utilizzi di un ambiente industriale quindi con isolamenti maggiori con distanza tra le piste tali da avere una garanzia all'immunità i disturbi valori MC eccetera eccetera per lavorare in un ambito industriale non troverete mai la scheda che c'è dentro opta venduta singolarmente come scheda o venduta su altri store eccetera si troverà sempre solo opta secondo me abbiamo qualche domanda la prima domanda nelle espansioni è prevista eventualmente anche un'altra porta ethernet in caso al momento no al momento no perché perché come si diceva prima di iniziare allora questo è proprio il primo passo di questo progetto quindi al momento ci interessa dare un prodotto che possa coprire il grosso delle applicazioni quindi sul grosso delle applicazioni abbiamo bisogno anche di un numero maggiore di input output un numero una tipologia diversa di input output per appunto coprire la maggior parte delle richieste dopodiché andiamo su altre tipologie di moduli di di espansione quindi oggi non è previsto oggi domani perché no domani perché no una cosa del genere appunto se si va ad attaccare a uno switch vado poi ad aumentare il numero di di porte utilizzabili se mai se mai avessi bisogno di collegarmi su due reti perché capita anche purtroppo quello cioè ho bisogno di interagire con chiaro si 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 il discorso è chiaro ripeto perché no non domani non domani perché prima vogliamo ampliare la gamma di opta mettere sul mercato le espansioni valutare altre tipologie di tensione valutare altri fattori dedicati al prodotto c'è la possibilità eventualmente di ricompilare un firmware quindi c'è un ambiente di sviluppo previsto no io compilo e sovrascrivo il il programma programma esistente carico il o meglio posso caricare solo il compilato posso eventualmente caricare il compilato e la sorgente vedere opta come una porta usb e quindi poi scaricarmi il sorgente posso fare tutte queste cose qua c'è modo di blindare il codice che io si posso andare poi a inserire password e protezioni locali ok limite di tensione per vedere il bit di ingresso digitale a 1 verso il basso e il limite massimo verso l'altro allora sotto i sotto i 3 volt è considerato 0 sopra i 3,9 4 volt è considerato 1 ok quindi posso utilizzarlo anche su applicazioni dove ho 12 volt assolutamente fino a 24 volt non c'è problema non è legato assolutamente o altro sì 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 assolutamente fino a 24 volt gli ingressi massimo massimo di tensione 24 volt 24 volt ok c'è una protezione che fa fa quello che può ecco non gli posso andare a mettere il 2,30 ok bene altre domande adesso non gli posso andare a mettere il 2,30 poi intanto grazie è stato molto interessante range di temperature di funzionamento abbiamo parlato di ambito industriale però immagino avviate valutato anche fotovoltaico utilizzo all'esterno noi qua come elettronica attualmente il secondo UL siamo su meno 40 più 55 ok e l'altra domanda che volevo fare riguardava l'ambito educational di cui avete parlato avete già dei progetti strutturati delle proposte dei pacchetti formativi che proponete li state studiando per la parte scolastica con Opta parte scolastica o post diploma insomma abbiamo abbiamo una serie di alcuni progetti in pista concreti chiusi non ancora perché perché Opta è disponibile da due mesi quindi ci stiamo ci stiamo attrezzando ci stiamo ci stiamo muovendo per strutturare anche questa questa parte qua è definita è contestualizzata c'è ci muoveremo nel momento che appunto riteniamo che per l'autunno siamo potremo avere già più cose più concrete di cui di cui parlare è nel cilindro già grazie siamo arrivati d'anno vai vai ah no era per adesso vediamo il tempo che che ci mette per per compilare tu stai sto compilato questo sketch era quello per l'interfacciamento con il cloud con il mio con il mio profilo che avevo realizzato adesso ci metterà qualche secondo a compilare e a caricare sperando che prima ho toccato per sbaglio alcune cose non so se ho cancellato punti e virgola o altro questo qua è uno sketch che appunto che va a leggere le grandezze di potenza tensione corrente del 7m e va a se la va a fare una lettura del va a fare una lettura di corrente se è maggiore di 0.03 mi va a chiudere il mi va a chiudere il relais 1 e mi va a dare il l'errore cioè l'errore il messaggio di corrente eccessiva se sotto lo 0.3 mi da corrente ok contatto contatto aperto eccetera proprio veramente uno sketch didattico base per fare un'idea di controllo controllo carico generalmente quando attacco la lavatrice esatto vado su oltre oltre determinato oltre un determinato valore se lo supera in questo caso sarebbe più giusto ragionasse al contrario sarebbe più giusto ragionasse in corrente in logica positiva quindi che il contatto sempre chiuso supero quel quel valore apre e quindi va a staccarmi quello quello che c'è quello che c'è vale qui ripeto giusto per per giocare e dopodiché c'è un un quando vado a agire sul pulsante del che ho creato con il con l'app va a chiudere il contatto il contatto 2 mi accende mi accende i led sta scaricando sta scaricando ok andiamo a vedere se ci siamo qua si è connesso a come mai ah si adesso sta vediamo se l'ho fatto nel momento che si connette hotspot ok dovrebbe essersi connesso questo qua è la la prova del del connesso alla rete questo qua è la rete l'hotspot che ho fatto mv la lettura di quello la stessa lettura che che ho usato per l'altro sketch quindi non è cambiato veramente niente legge che in questo momento ci sono 7 watt e una corrente di 0.06 quindi superiore a a 0.3 che ho che ho indicato e mi viene scritto appunto corrente eccessivo adesso si sta collegando a al cloud magari questo sketch con anche l'elenco dei codici che abbiamo usato stasera lo pubblichiamo sul sul nostro sito così chi ha voglia di di provare a casa si si è è un gioco è un allora si è ecco si è collegato al cloud si è generato il thing id univoco quindi anche a livello di il crypto chip che mi ha generato questo questo codice ecco questo qua è quello che vedo sulla sulla mia app ok quindi sono in camera 6.9 2.1 233 volt e il pulsante interattivo il pulsante interattivo in questo momento qua è on se vado a spegnerlo adesso vediamo quanto tempo ci mette si è spento si è spento lo rifacciamo lo facciamo vedere stiamo parlando del status 2 e ho messo anche il blu del di questo contatto se vado ad agire qua porto in on ho la segnalazione sul sul cellulare e ho la segnalazione qua adesso c'è un po' di latenza dovuta al fatto che passo attraverso l'hotspot del del cellulare però giusto per sempre a scopo puramente didattico e di esempio e quindi qui ho anche la segnalazione del led posso mettere led rosso uno stato quello che voglio vado a spegnere tutto il giro e si è spento se vado a staccare in questo caso il la corrente ho una ho un ho un valore inferiore ai 3 ai 30 milliampere quindi corrente ok contatto aperto non ho più la segnalazione non ho più la segnalazione rossa di anomalia e è buono va bene direi che siamo arrivati anche abbastanza in orario alla fine va bene ringraziamo Marco ringraziamo Finder grazie grazie a voi grazie Stefano grazie a conoscere Linux che ci ha dato questa possibilità noi siamo qui quando volete tornare sono venuto più a imparare addirittura perché questo è un mondo veramente affascinante interessante quando ci saranno espansioni poi magari ci farai sapere qualcosa molto volentieri state state connessi sulle nostre pagine sulle nostre pagine social che vedrete sicuramente l'evolversi di questo anche di queste novità bene grazie Marco alla prossima alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti